Buongiorno a tutti elettronauti, proprio oggi Elon Musk è salito nuovamente sul palco allestito alla Fremont Factory di Tesla per parlarci della loro nuova creazione, Model S Plaid. Model S è stata l'auto più importante del gruppo ed era ora che finalmente fosse rivista completamente. Oggi è diventata l'auto costruita in serie, più veloce al mondo ed anche più sicura, ma andiamo con ordine. Io sono Matteo Valenza, benvenuti in questo nuovo video. Nei primissimi minuti dell'evento sale sul palco l'head designer di Tesla Motors, Franz von Holzhausen, portandosi un martello, che non è lo stesso utilizzato per picchiare il parabrezza del Cybertruck, ma diciamo che il messaggio è chiaro, siamo qui per spaccare. Fa lui i convenevoli salutando e ringraziando le persone che sono state invitate all'evento e trasmette la sua emozione per Model S, che da giugno 2012 regala emozioni a tutti gli appassionati del mondo elettrico. Segue un brevissimo video che comincia rievocando gli eventi che hanno segnato la nascita e la crescita di Model S negli anni, per portarla alla Model S di oggi. La scena cambia, viene inquadrata una Model S su di un circuito, quello dove vengono effettuati i test a Fremont. Elon Musk sale a bordo e spinge la Model S alla massima velocità per farci saggiare la sua potente accelerazione. Dai dati espressi possiamo vedere la forza G applicata al guidatore, superiore rispetto ad ogni altra Tesla. Un G per 800 cavalli di potenza raggiungendo i 160 km orari, ma poi la pista finisce e deve decelerare e salire sul palco. Elon Musk ringrazia tutti i presenti e comincia a parlare della storia di Model S, ben presto però comincia ad approfondire tutti gli sforzi fatti per abbattere la barriera dei due secondi, perché è stato veramente molto difficile, una sfida che per ora nessuno era riuscito a vincere. Trattandosi poi di un'automobile che non è nata per lo sport, ma per essere guidata anche per andare a fare la spesa, hanno dovuto combinare tutto, quindi 5 posti a sedere, spazio per tutti gli occupanti, un sistema audio potenziato, un sistema infotainment rivisto, un'autonomia di tutto rispetto, eccetera eccetera eccetera. E a proposito di autonomia, Elon ha parlato anche dei supercharger, che al momento è la più grande rete di ricarica al mondo. Model S sarà equipaggiata con un sistema di ricarica che potrà usufruire della massima potenza disponibile, oggi siamo attorno ai 250 kilowatt. Ah e dimenticavo, Model S la potrete portare a spasso per circa 620 chilometri. Continua poi a parlare di quanto sia stato difficile produrre questa nuova versione di Model S, ma che comunque è stata la produzione più veloce di sempre. Le consegne partiranno oggi, in questo momento poi Tesla può produrne 700 al mese, ma i numeri sono destinati ad aumentare molto in fretta. Si parla di 1000 entro il mese prossimo per arrivare fino a 5000. Prosegue poi snocciolando un po' di dati, 0-100 in meno di 2 secondi, 0-400 in meno di 10, 320 chilometri orari di velocità massima, 1020 cavalli di picco, 627 chilometri di autonomia e una potenza di ricarica di circa 300 chilometri in 15 minuti. Numeri ragazzi che fanno girare veramente la testa. Continua poi illustrando il nuovo pacco batterie di motori, che ora sono tre invece che due, montati sulla sale posteriore e anteriore, circondati da un sistema innovativo in carbonio che letteralmente li tengono insieme. Beh sì, perché per sviluppare così tanta potenza è stato veramente difficile progettare un powertrain efficiente e che soprattutto potesse supportare tanta forza centrifuga. Pensate che i motori girano a circa 20.000 giri al minuto. Tutta la potenza viene erogata da una sola marcia, quindi pensate, con un'accelerata da 0 a 320 chilometri orari, la forza che questi motori sono in grado di allargire è pazzesca. E questa, a detta di Elon Musk, è stata la vera sfida, ingegnerizzare un sistema di rotori efficiente che potesse contenere e sfruttare questa forza allo stesso tempo. Ma non è finita qui, perché ovviamente la potenza non è tutto. Anche l'aerodinamica è molto importante, quindi il team ha dovuto affrontare altre sfide, ma a detta di Musk, la sua Model S Plaid, è l'auto con il coefficiente di penetrazione dell'aria più basso in assoluto. Misura infatti 0.208, un record. Potreste forse sentire di coefficienti di penetrazione dell'aria più bassi di questo, ma non fatevi ingannare. Molti di questi sono fatti con auto ferme, qui invece il coefficiente è di 0.208 ma con le ruote in movimento. Quindi questo è l'unico vero dato reale che importa. Un'altra novità importante è il nuovo sistema di pompa di calore che è diventato più grande ed efficiente. Potrà infatti raffreddare o riscaldare la batteria e ovviamente l'abitacolo più velocemente e senza sforzi. Così facendo potete portare l'auto in pista e lanciarla all'infinito in accelerazioni da brivido senza alcuna perdita di potenza. Vabbè all'infinito dai, finché non finisce la batteria. È il 37% migliore rispetto al precedente e richiede il 57% in meno di energia per riscaldare o raffreddare la cabina anche in condizioni climatiche estreme. Il radiatore è il doppio del precedente ed è appunto grazie a questo che vi permetterà di sparare da 0 a 100 la vostra plate senza perdere potenza. Elon poi parla dei supercharger che ormai sono ovunque e vi danno la possibilità di viaggiare senza alcun pensiero o ansia da ricarica. Pensate ne hanno inaugurati altri 30 solo questo mese. Un applauso per tutti i supercharger ci sta alla grande. Il video poi mostra come Model S impatti a grande velocità contro un cuneo per un crash test e ribadisce il fatto che è una delle auto più sicure sul mercato in questo momento e tra l'altro è molto contento di dire che le auto più sicure al mondo in questo momento sono tutte Tesla. Tesla Model 3 rimane ancora sul podio con circa il 5,7% di probabilità in caso di incidente di farsi male contro il 5,8% di Model S Plaid. Quindi con Model S Plaid avrete l'auto più veloce di tutte le sportive in commercio, l'auto più sicura al mondo, anche più di una Volvo, tutto insieme nello stesso veicolo. E per quanto riguarda il design beh diciamo che è stato parecchio svecchiato. Come vedete abbiamo un nuovo volante Yoke che sembra essere poco comodo ma in realtà a detta di Elon risolverà parecchi problemi e ci si abituerà veramente molto facilmente. Il nuovo schermo che ora è inclinabile è più grande ben 17 pollici, carica batterie per smartphone per il conducente e per tutti i passeggeri perché infatti anche dietro sul boggia braccio ne troviamo uno dedicato. Poi il sistema di ventole ora è come quello di Model 3 con una sola lama è comandabile da tablet centrale e sì anche per quelli dietro. Insomma questa Model S ragazzi è tutta nuova ma Elon non si è fermato qui ha anche ridisegnato tutto il sistema infotainment rendendolo molto più smart con più possibilità di ampia personalizzazione. Infatti vedete da questa demo come è possibile andare a spostare le icone, mettere i preferiti, fare drag and drop eccetera. E sì ci ha tenuto anche a dire che ora il sistema di navigazione supporta le destinazioni multiple. Questo sistema operativo sarà disponibile a breve anche per le altre auto. Speriamo che arrivi super presto. Io ovviamente vi farò un video dedicato. Un altro aspetto importante è anche quello della marcia automatica. Sì perché non so se lo avete notato ma dietro il volante non c'è più la levetta per la marcia. L'auto determinerà da sola se dovrà andare indietro o avanti. A voi basterà premere il pedale del freno e l'auto saprà già che marcia innestare. Ovviamente in caso non lo riconosca potrete impostare la marcia dal tablet. Diciamo che è veramente una figata. Utilizzerà poi anche il GPS per memorizzare le vostre preferenze. E ancora non finiscono qui le novità. Il sistema infotainment di Tesla ha raggiunto i livelli di potenza pazzeschi. Monta ora infatti un processore AMD Ryzen con una GPU delle stesse capacità di PlayStation 5. Vedete infatti qui una demo live con un conducente che sta giocando ad un gioco AAA Cyberpunk 2077. Sì ok poteva scegliere un altro gioco sappiamo che Cyberpunk non è stato proprio fortunato ma forse l'ho fatto proprio per quello per dare una mano a Project Red che ora è un po' in difficoltà. Comunque da spacca mascella ragazzi guardate che avere una potenza di calcolo così è veramente follia pura. Cioè stiamo parlando sempre di un'automobile. Elon Musk poi ribadisce ancora che la potenza è folle ma anche sul powertrain. Infatti come potete vedere da questo grafico l'auto riesce a sfruttare tutti i cavalli senza perdere potenza ed è un bel salto in avanti rispetto a tutti gli altri modelli Tesla. Ebbene sì ragazzi Tesla Model S Plaid è arrivata. La più veloce, la più potente, la più confortevole, la più completa, la più longeva. Mamma mia se questo è il futuro che ci aspetta chissà dove arriveremo. Io non vedo l'ora di provarla. Nel frattempo mi raccomando iscrivetevi al canale e accendete la campanellina. Io vi saluto e vi ringrazio per aver guardato questo video riassuntivo tutto fino alla fine. Ci rivediamo ogni martedì e venerdì con un nuovo video e la domenica mattina con il video della news della settimana. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Li leggo sempre molto volentino e rispondo. Quindi commentate e lasciate un bel like. Ciao elettronauti, a presto!